Oh, finalmente c'è un dente! se la strada è lì scusa! dove va lui? non riusciva a saltar su di lì! Caupigi fermati a Modena! vai 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 e adesso da lì chi lo tira fuori? col vericello non c'è un ghiaccio piccato! se si sblisga! guarda ora dove hai problemi! visto? ottimo! oh, dritto! va pure! mi ha ca che è proprio? prego! aspetta va! vuole mica un suzuki questo da spostare! buong! buong! perchè non riesce a uscire strada! tutta sinistra! tutta sinistra! stiamo! 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 calma! 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 perfetto! boom! perfetto! grande! va bene per il challenger! calma! è la calma! il calma! calma! però qui il ramo lo tiriamo via! perchè indietro avanti! va ancora? dritto! 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 dritta le ruote! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Giri in là! Avanti, non indietro! Ecco, vai! Perfetto, vai! Perfetto! non perfetto vai avanti seconda e non ridere dai che sappiamo un panettone vai 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 panetta panettone ok spanettoniamo avanti deciso seconda dai non si passa di qua si scivola non è spazzata ma il blocco di dietro come si si vuole fare vai digas gira fermo vai vai vai